Un saluto e buon martedì primo giugno a tutti i telespettatori di Città Celeste TV e a tutti i lettori di Città Celeste.it. La Lazio accelera per Sarri, ebbene sì, perché nel pomeriggio di ieri il DS Bianco Celeste Iglitare avrebbe effettuato un blitz a casa appunto del tecnico nativo di Napoli, ma toscano, di adozione nei pressi di Arezzo. Un Sarri che al momento sembra allettato dalla proposta Bianco Celeste. Si parla di un biennale con opzione per il terzo anno ad una cifra vicina ai 3 milioni più bonus. Al momento però non c'è ancora la risposta del tecnico che comunque è attesa per questo fine settimana. Un possibile arrivo quello di Sarri che sta scatenando tantissimo entusiasmo sia tra i tifosi ma anche nello spogliatoio con Pepe Reina, suo ex calciatore, e lo stesso immobile veramente euforico per il possibile arrivo di Maurizio Sarri. Oltre ciò ovviamente la Lazio sta anche monitorando il mercato e vanno tenuti assolutamente in considerazione due profili. Uno è quello di Elsei Disai che è un fedelissimo di Maurizio Sarri, ma per il quale insomma c'è buona concorrenza perché oltre alla Lazio il terzino albanese piace moltissimo sia al Milan che alla Fiorentina. Ma attenzione anche a un altro profilo sempre in scadenza di contratto come Usai e si tratta di Danilo D'Ambrosio. Danilo D'Ambrosio ad un passo dall'addio dall'Inter e che piace però molto non solo alla Lazio ma anche al Napoli. Per Città Celeste TV Valerio Marcangeli.